Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. Secondo le informazioni divulgate dal giornale L'Unione Sarda, il nome che sta emergendo come possibile rinforzo è quello di Stefan Mitrovic, un talentuoso difensore nato nel 1990 e attualmente in forza al Getafe. Nonostante sia ancora solo un'idea, la possibilità di poter contare sull'esperienza e l'abilità di Mitrovic ha generato aspettative tra i tifosi e lo staff tecnico del Cagliari. Stefan Mitrovic, noto per la sua prestazione solida e la capacità di lettura del gioco, potrebbe apportare profondità alla rosa del Cagliari, offrendo un'alternativa affidabile in difesa. Il suo possibile arrivo rafforzerebbe la missione del club di potenziare la squadra e mantenere uno standard di eccellenza, anche di fronte alle avversità del mercato delle trattative. E voi, tifosi rosso-blu, pensate che Stefan Mitrovic sia un buon rinforzo per la difesa? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per il Cagliari.